Maria De Filippi nella corsa puntata ha mostrato il suo carattere e la sua ironia scatenando le reazioni del pubblico che è rimasto incredulo di fronte a quello che ha fatto la conduttrice. La donna infatti si è lanciata in un gesto chiaro nei confronti di Rudy Zerbi che stentava a crederci ma il pubblico in studio è rimasto molto divertito. Il gesto dell'ombrello eseguito da Maria in pochi attimi è salito nella trend topic di twitter facendo sorridere tutti gli utenti del web. In pochissimo tempo Maria è diventata la queen delle gif quindi oltre che della tv italiana. Il motivo del gesto di Maria è stata la performance di Vincenzo. Maria si è concessa il momento di goliardia approfittando della rabbia del concorrente preso in giro da Rudy Zerbi. L'immagine è diventata presto virale anche perché Maria non è incline a gesti simili ma è successo della trasmissione si basa anche sulla complicità e il cameratismo fra gli spettatori che diventa uno degli elementi chiave del formato.